Uccidete pure me, ma non ucciderete mai le idee che sono con me. Così Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e assassinato il 10 giugno del 1924 da una squadra fascista a causa delle sue denunce per le illegittimità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. A un secolo di distanza, in collaborazione con FLC, Cigelle, Chieti, Spicigelle, Chieti, Libreria De Luca e l'associazione Da Grande Voglio Crescere, la CGL di Chieti, in piazza San Giustino, ha organizzato un flash mob degli studenti. Il processo dovrà svolgersi in un clima di calma perfettissima, se non di indifferenza. Queste le parole della stampa del regime fascista in merito al processo Farsa Matteotti che proprio qui in tribunale a Chieti si è svolto dal 16 al 24 marzo del 1926. Un processo che si limitò a rinvio a giudizio dei soli esecutori materiali ma i mandanti facilmente individuabili, gerarchi o lo stesso duce. Presente allora l'avvocato difensore di Matteotti Pasquale Gagliano Magno di Orsogna che non chiese nulla alla vedova come compenso. Sarà suo malgrado oggetto di attenzioni particolari da parte dei fascisti che lo minacciarono e malmenarono. In segno di riconoscenza la vedova Veglia Titta regalerà all'avvocato la penna stilografica dell'amato marito. Da quella penna parte idealmente l'iniziativa di oggi. Il segretario generale CGL Chieti, Franco Spina. Abbiamo voluto dare un simbolo che è quello della penna stilografica con la quale Matteotti scrisse il suo ultimo discorso, 30 maggio, che poi venne letto in Parlamento e da cui ovviamente partì tutto quello che poi è successo il 10 giugno con la sua morte e così via. Un discorso che era molto attuale paradossalmente. Lui denunciava quelli che erano gli atti di corruzione, denunciava la restrizione delle libertà che stava nascendo con il partito fascista al governo, denunciava gli atti di intimidazione che subivano i cittadini che non si allineavano al pensiero unico. Paradossalmente ancora oggi parliamo di corruzione, ancora oggi parliamo di diritti che a volte non vengono resi esigibili e quindi noi abbiamo voluto con questo discorso di oggi, offrendo una penna agli studenti, dire siete voi che dovete, appunto usala per la libertà, dovete continuare a fare ciò che ha fatto Matteotti e tanti altri. Spiega il professor Rapposelli che il processo fu istituito a Chieti e non a Roma, sede naturale, perché la città era tranquilla e il regime aveva l'appoggio dei notabili cittadini. A Chieti il processo fu ovviamente un processo farsa, gli imputati furono assolti, tre condannati appena molto miti di cinque anni che in realtà poi attraverso indulti e amnitie si ridussero a solo due mesi di carcere, quindi praticamente niente. I ragazzi sono stati chiamati poi a lasciare un loro pensiero sulla libertà, sulla democrazia e sulla giustizia. Tutte le frasi confluiranno poi in una pubblicazione che sarà realizzata a cura della CGL Chieti.